gentili telespettatori buona giornata grillo lo aveva detto non lascerò solo luigi di maio vi ricordate lui è il capo è insostituibile non rompete le palle lavora 25 ore al giorno senza di lui sarebbe peggio però gli avrei detto però devi guardare a sinistra e attenzione devi rifare un bel contrattino con il pd non guardare a destra io ti riconfermo ma non guardare a destra questo era il riassunto del loro incontro quando di maio gli aveva chiesto ho bisogno di vederti devo spiegarti cosa sta succedendo e grillo era corso si erano incontrati porte chiuse nel solito albergo e grillo poi aveva detto non lo lascerò solo anche perché ha capito che di maio e gli aveva anche detto di maio sono rimasto da solo sono tutti contro di me tutti ci sono bande tra nel momento 5 stelle lotte per il potere vogliono prendere il mio posto vogliono impossessarsi dello statuto per cancellare la clausola del secondo mandato che che manda poi a casa parlamentari e senatori che non possono essere più eletti ma quindi lui rimasto solo solo con l'amico poi di battista alessandro di battista che al suo fianco sempre ma lui è l'eterno panchinaro battista e di battista di battista no il battista di battista no è l'eterno panchinaro l'uomo che va bene per qualunque cosa pronto a entrare farà il facilitatore farà il ministro e alla fine non lo cambiano mai perché è troppo duro e poco politico è troppo duro dice le cose come stanno quelle cose che pensano voi sapete che in politica non è proprio il caso dire quello che si pensa è molta ipocrisia e falsità e quindi il dibba viene sempre lasciato fuori può creare problemi no quello no dai quello ci crea dei problemi quello appena nominato ministro viceministro questo tutti i giorni andrà contro qualcuno quindi se lo lasciano sempre fuori ma a questo punto beppe grillo arriva a roma per arginare la fuga dal movimento dopo che ha visto tre senatori andare via quindi arriva per partecipare ad assemblee dei senatori e deputati e cercare di calmare le tensioni e questo proprio circa 30 giorni dopo un mesetto dopo quel incontro che vi raccontavo prima tra l'elevato e il discepolo quindi va a palazzo madama a vedere a parlare con i senatori poi va alla camera e a parlare con i deputati dopo i malumori per i cambi di casacca chi sono stati i cambiatori di casacca i fuggitivi fuggiaschi ugo grassi stefano lucidi e francesco urraro prima va via grassi gli altri prendono prendono forza coraggio e vanno via anche loro si dice siano tantissimi quelli pronti ad andare via e che forse adesso con il congelamento del taglio dei parlamentari faranno il grande salto perché bisogna fare cadere il governo adesso prima che tagliano i parlamentari prima che è più facile poi perdere il posto di lavoro e non poter più rientrare perché il partito perde voti si tagliano i parlamentari e rientra solo uno ogni tre uno ogni tre vuol dire che il 66 per 100 sono licenziati praticamente e quindi stanno cercando di tutelare il loro posto di lavoro quello che è successo proprio oggi o ieri scusate con il congelamento del taglio dei parlamentari con il referendum che ci sarà in maggio giugno o aprile questo porta comunque a velocizzare e ad aumentare il rischio di caduta del governo rischio per l'area centrosinistra e mag e dall'altra parte centrodestra magari cadesse il governo il rischio è solo per il centrosinistra ma dicono che grillo è andato a roma per fare gli auguri di natale per scambiare gli auguri di natale ma sicuramente è andato per vedere come quei presidenti delle aziende che vanno nella filiale non so a roma vado nella filiale roma vedere come vanno le cose sto lì un giorno faccio gli auguri porto i regalini chiedo il fatturato quanto abbiamo fatto se ci sono problemi e poi torno un po così quindi andato lì a vedere quello che succede e quello che può e quello che può fare anche per vedere di calmare le tensioni interne e per dare una linea di indicazione per una organizzazione del futuro sapete che hanno creato il team i facilitatori sei facilitatori i dodici tematici no quindi c'è una sorta di riorganizzazione del movimento 5 stelle però beppe grillo sa benissimo che i senatori vanno via perché stanno andando a cercare un posto di lavoro non gli interessa riorganizzazione non riorganizzazione hanno tradito non hanno tradito ai senatori non gliene frega niente tradito non tradito quello interessa solo garantirsi che il loro stipendio continua ma chi non lo farebbe la prima la prima fissazione quando si alzano la mattina e come sopravvivere alla caduta del conte 2 che prima o poi arriverà forse più prima che poi e quindi stanno cercando di capire come velocemente trovare l'accordo con qualche altro partito la lega renzi ma renzi è in discesa la lega l'unica che 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 lì che ha raddoppiato i suoi voti quindi ha un sacco di posti liberi in senato in parlamento perché ha raddoppiato i voti quindi in parlamento in senato adesso della lega ci sono senatori e parlamentari per per i voti che ha preso nel 2018 cioè 15 per cento 16 quanto era quindi adesso che la lega al 30 per cento avrebbe il doppio dei posti in senato e in parlamento quindi è il posto ideale dove andare anche per i grillini dicendo ma io sono sempre stato alleato della lega io non ho mai condiviso l'alleanza col pd questa è la giustificazione che diranno tutti quelli che passeranno dai momento 5 stelle alla lega ed è molto probabile che questo governo finisca proprio per i passaggi dei senatori dal centro sinistra al centro destra non cadranno perché conte darà le dimissioni perché zingaretti staccherà la spina perché di maio staccherà la spina no la spina si da sola quando la maggioranza non avrà più i numeri proprio per le fuoriuscite dei senatori ma grillo dice io non sono a roma per ricompattare il movimento dice i fuoriusciti dei 5 stelle io non riesco a convincere nessuno se una persona cambia idea lo può fare non sono qui per rasserenare nessuno sono qui per conoscere tanta gente non l'ho mai vista né conosciuta beh non è non è che grillo non è che i senatori cambiano idea cambiano posto di lavoro cambiano azienda non cambiano idea qui si parla di mangiare soldi non di ideali attenzione che nella piramide delle priorità di una persona non ci sono prima gli ideali o le idee prima c'è mangiare pagare l'affitto pagare la luce il gas il telefono quando uno ha pagato i bisogni primari poi successivamente comincia a vedere i bisogni secondari e poi dopo un po arriva gli ideali alle idee quando uno ha la pancia piena sta al caldo non ha problemi e tutto quanto allora comincia a pensare agli ideali ma dopo questi stanno cercando i bisogni primari lo stipendio che gli permette di vivere ma di maio tiene il teme il colpe quindi torna e affianca grillo con i parlamentari cinque stelle torna dalla sua missione in africa ma attenzione c'era la voce proprio nei giorni scorsi che grillo stia pensando a virginia raggi da mettere al posto di di maio quando finisce tra un anno e qualcosa il mandato nel comune di roma mette vorrebbe mettere virginia raggi voi dite ma non può la virginia raggi ha finito il suo secondo mandato sì ma nello statuto dei 5 stelle non c'è un c'è un divieto di ricandidarsi nei 5 stelle per senato parlamento per i comuni ma non c'è il divieto di essere capo politico o il divieto di essere ministro viceministro o presidente del consiglio guardate conte conte presidente del consiglio senza essere né parlamentare né senatore quindi beppe grillo starebbe pensando a virginia raggi in quanto virginia raggi avrebbe risposto a tono ogni volta che salvini gli ha detto qualcosa e quindi sarebbe diventata sarebbe utilizziamo il condizionale sarebbe diventata la pupilla di beppe grillo che starebbe pensando proprio di mandare di mandar via di maio e far arrivare la raggi una cosa alquanto curiosa perché tra di maio di maio è quello che no vabbè però vi se mettiamo su su due piatti di maio e virginia raggi pesa di più di maio cioè volendo scegliere il male minore il il male minore è il male minore il male minore è luigi di maio mettere virginia raggi come capo politico quella che riprendeva salvini salvini faceva una videochiamata e l'ha fatto riprendere poi ha pubblicato salvini che faceva una videochiamata ridendo parla da solo sapete quelle battute anni 90 quando si cominciavano coi primi cellulari a parlare con l'auricolare o a fare una videochiamata ti dice parla da solo e questa qui viene nel 2020 a fare la battuta di vent'anni fa tristissimo tristissimo questo è attaccare salvini parla da solo immaginate la capo del momento 5 stelle ma sì grillo metti la capo del momento 5 stelle così il momento 5 stelle diventa diventa meno di di quei partiti di toti no di calenda diventa tipo l'uno per cento l'uno virgola 5 no altri partiti 1,5 mettila mettila al capo del movimento virginia raggi vedrai che che salto di qualità io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare siamo anche su facebook tele italia notizia la pagina su cui potete trovare tutti i video pubblicati su youtube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci